Un imprenditore, Massimo Colistra, di 64 anni, è stato ferito ieri a colpi d'arma da fuoco alle gambe nel centro di Vibo Valencia. L'uomo, che non è in pericolo di vita secondo quanto si è appreso, è stato raggiunto da due proiettili sparati a distanza ravvicinata da uno sconosciuto con mascherina e cappuccio. Colistra, commerciante nel settore dei materiali per l'edilizia, era uscito da un club dove aveva trascorso la serata con alcuni amici ed era appena salito nella propria auto per fare rientro nell'abitazione. Subito soccorso, l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dove i medici gli hanno prestato le prime cure, constatando che entrambi i proiettili erano entrati e usciti senza provocare gravi danni. Colistra, per il quale non si è reso necessario un intervento chirurgico, si trova ricoverato nell'ospedale ora di Vibo Valencia. Sull'episodio, i cui contorni appaiono al momento ancora poco chiari, indaga il personale della squadra mobile della questura di Vibo. Ovviamente, come accade in questi casi, non viene esclusa alcune ipotesi e si ipotizza anche l'intervento della direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Nicola Gratteri.